Ciao. Bentornato al programma TV di oggi con notizie come, Beatrice Quinta è una delle trionfatrici dell'edizione 2022 di, X Factor. Il suo secondo posto dietro i, Santi Francesi, è un successo che si è guadagnata con fatica e il duro lavoro come lei stessa ha dichiarato in un'intervista rilasciata a, Rolling Stone. La ventitrenne palermitana ha da subito mostrato la sua stoffa da diva, la sua capacità di stare sul palco e bucare lo schermo ma è soprattutto riuscita a resistere alle, avancis, di Errecomi con classe. Con Dargen d'amico grande intesa, ha smussato i miei angoli. Beatrice con il suo inedio, se dollaro dollaro o, sta ottenendo ottimi risultati su tutte le piatteforme musicali e confessa, non mi aspettavo di arrivare dove sono arrivata, però io so quanto l'ho voluta e credo che l'impegno che ci ho messo, la determinazione, le prove fino all'alba si siano viste tutte. E sull'intesa con il suo coach Dargen d'amico dice, Dargen è una persona molto esigente, io una maniaca del controllo, la nostra è stata una pazzia condivisa. Lui ha avuto la capacità invece di limare, sottrarre, smussare i miei angoli e i miei spigoli. Vengo dalle jam session a Palermo, i miei idoli sono la Bertè e la Rettore. La mia ispirazione arriva dalla musica italiana spiega noi abbiamo Loredana Bertè, una che a Sanremo ci è andata col pancione o con l'abito da sposa per, non sono una signora. E che dire di Donatella Rettore? O Renato Zero? E Lady Gaga che si ispira a Mina? La mia esterofilia mi porta a guardare a donne che però si sono ispirate ad artiste italiane. E facendo accenno alle sue origini dice, io vengo dalle jam session a Palermo, vengo dal rock, la mia musica ha influenze molto varie e insospettabili e volevo che si vedessero tutte. Dove mi vedo tra 5 anni? In tour e con una grande famiglia. Non credo proprio che accetterò di uscire con Errecomi, sono troppo concentrata sul prossimo futuro. Sento il bisogno di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Errecomi mi vuole sco asterisco aro o meno. Se proprio dovete dare il merito dei miei successi a un uomo, dateli ad Argent Amico. Il mio più grande sogno è fare più tour possibili, io solo sul palco mi sento completa, felice, è quello che voglio fare. Ma tra 5 anni mi vedo anche in una villetta poco fuori Milano, con un giardino grande, sempre folle come adesso ma con qualche sicurezza in più e la mia famiglia attorno, dei bambini, conclude. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. All you got to do, babe, is close your eyes and read that my love is for you, girl and never. The same The same The same The